Appassionati di calcio ma soprattutto amanti dei colori giallorossi, il più cordiale buon pomeriggio a tutti. La Roma di coach Spugna pronta ad affrontare il Parma. Attenzione al retropassaggio che mette in difficoltà, c'è Hazard, il tiro e c'è il gol da parte del Parma. Parma in vantaggio con Martinovic. Lyonna riceve il pallone da Giuliano, va al cross, deviato, poi la conclusione e c'è il gol da parte della Roma. Il pareggio della squadra giallorossa. Lyonna supera l'avversario, ancora Lyonna, il tiro, la conclusione e c'è il gol da parte della Roma con Valentina Giacinti che va a deviare il pallone di Lyonna e dunque Roma in vantaggio al diciannovesimo minuto di gioco. Linari, il tiro dalla distanza e la parata in due tempi da parte di Capelletti. Tiene lì Minami, non la fa girare Bardin. Bardin, il tiro e questa volta è il gol del Parma, il 2-2 di Bardin al quarantatresimo. Lyonna, pallone su Ove che va alla conclusione, il palo da parte di Emilio Ove. Buono intervento di Greci, Giacinti, Giacinti, Giacinti! Peccato. Ove, Ove, si libera il destro di Ove. La deviazione, la deviazione di Cox. Pallone su Roman, il colpo di testa fermata da Cox. Bravissima Giacinti, va giù, difende il pallone, rigore, 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 rigore. Parte Andressa. Gol! Go! Go! 3-2. Il tiro dalla distanza, non può impensierire Ciasa. Allarga su Ove. Finisce! La Roma batte il Parma, 3-2. 3-2. 3-2.